Forte dell'ulteriore contributo della Regione, il Comune di Trieste vede più vicino l'obiettivo di trasformare la ex caserma di Via Rossetti in un campus scolastico. 15 milioni a disposizione al momento per acquistare l'area da cassa, depositi e prestiti e incominciare a mettere mano al sito, con l'ulteriore vantaggio, dichiara il Sindaco, di un buon rapporto col nuovo Governo. Beh, adesso abbiamo 10 milioni della Regione, adesso andremo dal Ministro competente e gli diremo qualcosa su cassa, depositi e prestiti. Ci dirò qualcosa nel senso che dirò cominciamo a fare, perché questi hanno lasciato passare tanti anni. C'era in quella volta Crosetto che era sottosegretario della Difesa, adesso è Ministro della Difesa, per cui credo che avremo una situazione sicuramente migliore sotto il punto di vista dell'approccio. Il progetto voluto dal Sindaco punta a trasferire una buona fetta degli istituti scolastici dentro l'ex caserma. Da un lato perché ci sono alcuni edifici e oggi sede delle scuole che versano in cattive condizioni. Dall'altro per dar valore alla vasta area di Via Rossetti, che altrimenti continuerebbe ad essere, nelle migliori delle ipotesi, un sito abbandonato. 7.500 studenti in un posto straordinario, sono 12.000 metri quadrati, è un posto veramente fantastico. Il Presidente Federica mi ha aiutato e lo ringrazio veramente di cuore, nel senso che ha messo a disposizione una cifra importante, prima 5 milioni e adesso altri 10 per l'acquisto.